Le previsioni meteo per venerdì 19 luglio. Il cielo si presenterà sereno o al più leggermente velato su tutta la regione per l'intera giornata. Faranno eccezione le ore centrali del giorno in cui si assisterà alla formazione di nuoqui addensamenti nuvolosi a ridosso dei principali rilievi della Sicilia orientale. Le temperature saranno prevalentemente stazionarie, saranno possibili locali picchi fino a 41-42 gradi sulla piana di Catania e sul basso trapanese. Venti molto deboli da direzione variabile o a tratti assenti di notte al mattino in serata. Nel corso delle ore centrali del giorno la ventilazione ispirerà regime di brezza con debole o moderata intensità. Mari poco mosso il tirreno tra poco mossi e mossi gli altri bacini. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in social tv.